It's so much fun And I'm back, I feel great And I'm wrong that you forget again And you're in here, you make me believe I really need us about me Congiuntivo del verbo andare Andare, che io andassi Io Eppi Il congiuntivo Esiste? Io apriò Tu Apristi Che jefe noi avemmo Voi aveste jefe Avessi 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 Che cos'è una sineddoche? Porca noia La sineddoche, lo sappiamo Abbiamo fatto il liceo classico La sineddoche, il congiù Non ti incazzare Associare sfere e sensorevi diverse E allora una sineddoche Era un'amica della mizia Me sembra Me sembra Ma non mi vorrei sbagliare La sineddoche E' qualcosa di religioso Di religioso Si Cosa vuol dire gargantuesco? Gargantuesco Quando tu fai Ti lavi i denti Che fai Questo è il gargantuesco Tanto, una quantità enorme Gargantuesco Che fai gargarismi Che fa dire gargantuesco? Che tal gargano? La gargano Ma per me la cipolla Dimmi una parola svinciola Oddio questa la sapevo La maestra Nadia si incazzerà tantissimo Salutiamo maestra Nadia Maestra Nadia scusa Che importante Iscrivetevi al canale YouTube Di Radio Bombay E' fighissimo